musica 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 bello sui ragazzi benvenuti su io sono Cesare oggi siamo da tantissimo tempo di tornare su youtube anche il canale di Rocco quindi saluta Rocco ciao e oggi faremo la nascondino challenge se qualcuno non lo sa praticamente bisogna avere un'arma che c'è già dal gioco ehm che si può clonare in un oggetto faremo questa challenge nella mia isola e niente ragazzi se ci vediamo questo video commentate e continuate a iscrivervi al canale e attivate la campanellina e niente ragazzi allora iniziamo metti pronto Rocco così iniziamo eh? metti pronto e ci iniziamo ah si ah ragazzi se volete ancora altri challenge di questo tipo scriveteci qui sotto nei commenti non ne li faremo giusto Rocco? mhm tra poco entriamo e niente ok ragazzi sei morto perchè tu muori sempre prima di me appunto ok allora entriamo nella isola a meno che in game veloce veloce mi danno subito un check in quindi appunto allora queste qua sono le casette cioè le casette sono in due casette ok allora è la mia isola ah ok adesso sto cominciando a vederle giusto prima le vedevo a metà ok lo sai vero che non hai permessi sì mo te le faccio subito allora per me assiii come si facevano? non mi ricordo più ah eccolo qua la mia isola per me assi modifica così vedi? yeah posso distruggere adesso no no non staccare niente allora dobbiamo nasconderci tipo qua così e quello che prenditi la pistola quella con la clone no allora ci prendiamo questa oggetto che si può vabbè questo oggetto vabbè così ecco senza dire guardalo come ok che inizia aspetta aspetta ma non mi trasforma in niente che inizia a nascondersi oh guarda guarda ma che ca vabbè dai inizia tu a nasconderti e niente ragazzi inizia io? si vai vai ok ok dammi il tempo di vedere in cosa mi voglio trasformare ah no è vero dobbiamo cambiarci di squadra giusto tu devi cambiare si ragazzi ci cambiamo di squadra così almeno se dobbiamo piccolare noi abbiamo tutti gli oggetti e vediamo quale vediamo quale le 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 di qualcosa di difficile voglio trasformare quando sei pronto me lo dici che inizio un attimo ok ma ragazzi che mi nascondo sarebbe molto bello avere questo oggetto nella vita reale madonna non è vero sarebbe stupido averlo ebbene in che cosa ti trasformis questa nella vita aspetta aspetta c'è un albero mi trasformo in albero un altro giorno l'indizio grazie no non era nel gioco era tipo perdere nella vita reale oh c'è un albero mi trasformo in un albero ma che bello c'è un albero un palo allora se devo farlo voglio farlo questo nascondiglio molto verbene così questo qua però mi potrebbe vedere quindi potrei fare così faccio così sembra troppo ovvio perciò tu non ti puoi muovere giusto no bene il fatto che non ti può muovere mi tranquillizza allora dove era quello che avevo visto prima prima quello che avevo visto all'inizio del game dove anche se mi vedi spostarmi eh ma manco ti vedo non so manco dove cavolo sei ti sono passato davanti meno male che non mi hai visto vabbè raga ci becchiamo tra poco quando avrò finito vai vai ho finito ok ragazzi siamo ritornati andiamo subito a cercare il nostro camico allora iniziamo da qua lui a ragazzi e se tipo lo trovo ecco è vabbè ma così impossibile giocare guarda due cose ci sono ma più che va picconele proprio là ci sono 1450 costruzione la piccone la piccone solo la non so manco io come ho fatto ok dai me prendi chi mi chi che mi ho fatto sì sì come vai entro là dentro che vado a nascondermi ok ma bella sta challenge dai sto nascondino sicuro certo ovvio che bella su 1450 posti ma così a cacchio l'ho fatto ma così a cacchio l'ho fatto non so manco io come ho fatto abba ragazzi ci nascondiamo in un posto proprio vero vero non so perché mi va il vento però ho tanto ping ma non so che non chiedermi come ok puoi andare rock posso andare? sì vai arrivo ok stavo giusto modificando stiamo qua immobili allora dove potresti essere? eh oh se a volte ti acchiappo e magari non me lo dice subito eh è perché mi va lento che ho tanto ping ok tipo se mi trovi non mi devo muovere mi ho già trovato quindi è così credo che c'è anche il coso per fischiare credo non mi troverai mai rock dici tu? sì ma tu puoi anche fischiare? non lo so sai non lo so prova che sto premendo il triangolo vedi? però premendo il triangolo ah sì dai questo almeno c'è un po' di consigli sono impossibile vai fischiare oh fischiare ragazzi siamo ritornati ok allora dovresti essere qua dentro perché il fischi viene molto vicino piccone dappertutto ogni tanto tipo ogni dieci secondi lancia un fischio fischia? eh sì così è facile l'ultima volta vabbè così ci aiutiamo l'ultima volta vabbè allora la persona che me lo chiederei tu non ti fischio mai più non ti fischierò per niente ok ho fischiato ho fischiato ma si può costruire? no non si può come un nascondino è rock ma tu pensi che se lassù non arrivo no 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 stai tranquillo che non sono lassù tranquillo qualcosa mi dice che sei qua vicino perché quando sento fischiare sento proprio qua vicino io è controllato nella casa grande quello è l'ultimo dietro dietro aspetta mi sto a confondere che è gigante qua dentro oh cavolo oh cavolo raga madonna che sono passato vicino madonna si oh fischiando non mi troverai mai se sei quando vabbè non è detto che non ti troverai mai devi darmi il mio tempo ma è vabbè sì porca vacca però lo sa che è la stessa cosa è la stessa cosa che avevo pensato di fare io poi ho detto io è troppo evidente su tre sedie che ce n'è una quarta qua quindi nei posti altri non ci possiamo nascondere no ok io intanto sto cominciando ad andarmai a nascondere ti piace questo gioco è carino non è male oh oh ma che ca... uh ho trovato il posto ideale mi fa costruire aspetta un attimo che mi si è bloccato tutto quanto se io controllo sì se ci sto qua fischiare pure tu eh io l'ho fischiato sì sì no ma se non fischiamo non ci troviamo mai cioè è impossibile se no senza fischiare beh te ne dà di fortuna la prima volta le quelle due non mi fanno mettere la scala eh ma i veri che sono pronto ah sei pronto sì vado eh ok ragazzi quando vuoi che fischio dimmelo fischia rifischia l'ultima volta ok allora credo sia qua dentro ma non ne sono sicuro mi fischia vabbè questo qua è paletemente che non è lui anche questo ah me lo fa mettere la scala ok ora sì sì ma non so perché tipo ma che ca... perché non c'è più il bancone quando mi avevo ucciso eh allora come ho più conosco sei morto sia tu che il bancone grande rifischia vai rifischia di nuovo ma che ca... ma che ca... allora questa è casa nella casa è distrutta appena ma... eh stavo dicendo ehm ma ci dobbiamo dare del tempo che so ma facciamo così mamma facciamo che ci sono 20 secondi no no 30 perché se no è impossibile quindi... allora aspetta iniziamo da adesso sono è 42 ben foto eh quindi è 41 vai ti faccio il favore è 41 è 41 se non riesci ad arrivare è 41 che manca pochissimo c'è 7 16 15 14 13 eh vabbè rifischia rifischia no vabbè aspetta un attimo ti faccio arrivare è 40 se è 40 non riesci vabbè raga ci si becchiamo tra poco se è 40 non riesci ti dico dove ero poi perché bisogna farsi dire dove era è difficile molto ti conviene ti conviene spiegarti sono in 43 secondi 40 fischia fischia 59 fischia fischia non ho sentito vai ma sei troppo lontano zio cioè ma proprio non riesco manco a sentirti c'è ma un filo proprio del rumore mancano 20 secondi c'è 9 18 c'è 7 16 15 14 13 12 11 facciamo che ci siamo tipo per ogni nascondiglio ci siamo dopo che abbiamo finito diciamo due minuti due minuti ok vabbè ragazzi intanto siamo ritornati sono a 40 è finito ragazzi vieni in quella casa dove andate all'inizio dove c'è dove hai detto ovviamente questo non è rock dove c'è quella fabbrica sì tu entra lì dentro e mettiti dove sono le scale per salire sopra si sono qua fermo 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 non vedete che se questo no raga no vabbè allora spede dimmi 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 non bel nascondiglio mi sono nascoste e ti metto qua tanto non mi vedrà mai appunto non con il mio soccorso che ti giuro vabbè dai non ci credo nasconditi ragazzi ci becchiamo ti può trasformare in questo qua ma stiamo scherziamo ok guarda ma che cazzo ma stai con un giro è molto più un corpo se quantità ha sto coso eh minghile vabbè dai ragazzi ci becchiamo tra poco quando ci siamo ti devi andare a nascondere tu si però non distruggere non distruggere tutto tu c'è eh lo so vai mettiti dove la tu stai distruggendo un milione di cose vai io sono qua mi sono messo la scala che intanto modifico un po' fatto aspetta eh non puoi uscire oh no non sto scendendo sono fermo che modifico io ok che tanto mi sono imparato benissimo a modificare grande mi sono imparato da te a modificare so modificare tipo benissimo le scale adesso bravo ma ragazzi mi nascondo questo coso io questo qua mi serve non fa scherzo cazzo prendiamo questo no porca puttanzo vai ma aspetta posso andare si va vai facciamo che si può fischiare quanto si vuole si abbiamo due minuti sono a 38 no aspetta aspetta che finisce il coso a 38 se no 15 secondi a 36 si finisce a 36 finisce eh no aspetta eh no aspetta eh no aspetta no sono finiti a 38 facciamo il 35 ok sono finiti a 38 ok 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 allora fischia fischia stai fischiando si eh allora non sei qua dove ero io ah si può nascondere pure nei piani sopra dove ci sono anche le scale che si può salire ovviamente c'è si si sicuro lo so fischia vabbè aspetta vai aspetta no perché se non sono un coglione sono io lo sai ma stai camminando ti sento andare in giro ti sento ti sento camminare mi fischia aspetta ok vabbè non fischia ogni secondo tu hai detto 35 giusto attento hai detto 35 che finisce si eh quasi tra poco però anche se non sto capendo una cosa eh perché io ti ho sentito camminare sono arrivato dove dove sentivo eh ho sentito un sacco di volte camminare fischia fare tutto ciò però non si vai o sono pazzo io o 9 8 7 6 è impossibile non ti sento 4 3 2 1 finito guarda dove ero vieni qua allora sai nella casa centrale cioè centrale è proprio no eh io sono io sono sulle scale io sono aspetta dove c'è aspetta dove c'è per piani ah sì dove sono dove te l'ho ucciso prima sono allora guarda dove sono aspetta ma cazzo sei sai dove mi ero ucciso prima sai che c'è una cassa aspetta mi sto confondendo pure io ma dove ero prima non mire che sei qua nel coso là in quella cassa arancione no dove mi è mangiato prima dove mi è mangiato prima vieni dove sei ecco ti guardami vieni a vedere dove ero seguimi guarda cioè prima ero un bosco di fiori ero qua così vabbè ragazzi per così via tutto non ci siamo più trovati una volta tutte e due E poi non ci siamo più trovati Una volta tutte e due Ok ragazzi Tutto la scelta Commentate e condiviate Iscrivetevi al canale Da me è mio carissimo amico Rocco Vi salutiamo Niente ragazzi Se volete vedere le prossime challenge Di questo genere Scrivete qui sotto nei commenti Quale sfide volete Anche il nome vi saluteremo Pure in quella challenge Niente ragazzi Da me è Rocco Ti sei dimenticato anche una cosa Cosa? Che salutiamo L'ultimo L'ultimo E ci invierà La richiesta di amicizia Tutte e due su Instagram Sì ragazzi Niente ragazzi Per questo video è tutto E noi ci becchiamo Nel prossimo video Rocco Saluta Ciao 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 ragazzi Ciao immagini Ciao 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 Ciao